Tu hai i piedi della croce, quanto dolore ha provato ogni mamma di questa terra, hai i piedi del figlio o dei figli morti. Marina, tu sei la madre del processo. Marina, dinanzi a tutto questo, soffre, non parla, stai in silenzio. Il silenzio del dolore, il silenzio della sofferenza. Tu, Marina, sei la madre di casa. Marina, io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. A quante volte anche tu di nascosto ti accendi. Marina, quando sentivi che Cristo l'avrebbero ucciso per noi. Voglio stasera, con la voce di ogni madre coronata, con tutte le vittime di abusi e di violenza, con loro, ti chiamo, ti invito a venire, oh Maria coronata. Vieni, oh Maria, vieni, oh Maria, ti prego, vieni, asciuga le nostre lacrime, asciuga il nostro dolore, Maria, vieni, asciuga i corzoni, i nostri cuori. Tu sei la nostra mamma, tu sei la regina del cielo e della terra. Noi vogliamo consegnare la nostra vita a te, le nostre parole, i nostri soldi, le nostre speranze, i nostri dolori, il nome alla vita di Gesù. A te voglio invitare stasera tutte le macchie, adorare, che sopporto il corpo e nello spirito. Voglio consegnare a te, Maria, Gesù. Voglio consegnare con Gesù tutti i ammalati, rinnovando, giusto di noi, il nostro eppure, al Signore Gesù, per fare la sua volontà. Santa Maria, Madre di Dio, vengi adorare, prega per noi, dei gratoni, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Amén. Maria, Maria, il nostro eppure, prega per noi, di Dio, vengi adorare, prega per noi, di Dio, vengi adorare, prega per noi, di Dio, vengi adorare, prega per noi, 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 prega per O Patristo, il tuo l'onore, grande e benzo, grande e benzo, Vogelmann.